Il Covid uccide altre tre persone nelle Marche, due di loro hanno meno di 50 anni. Tamponi gratuiti intanto per gli studenti il 6 gennaio, task force della regione contro il virus. Trovato senza vita nella sua abitazione, giallo sulla morte di Lando Fossi, noto commercialista di Fermo. Al Torrette di Ancona, addio al 17enne Filippo Montero, era in coma dopo l'incidente di quattro giorni fa. Due milioni e mezzo per il Ballarin, nel vecchio stadio di San Benedetto, verrà riqualificato sisma all'annuncio di Castelli, oltre 100 milioni per i comuni del cratere. Cinque positivi nell'Ancona Matelica, piccolo focolaio per i Dorici. La Samb punta su Zaccone, sarà il rinforzo per la retroguardia. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro Tg Marche, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. In primo piano, come al solito, purtroppo l'emergenza coronavirus che ancora non dà tregua. Infatti ci sono state altre tre vittime nell'ultimo giorno nelle Marche. Ben due di queste avevano meno di 50 anni. Tutte e tre le vittime si riferiscono alla provincia di Pesaro. I nuovi positivi sono invece 699. In aumento anche i ricoveri. Sono altri 699 nuovi casi positivi al Covid nelle Marche, ma la riduzione rispetto ai giorni scorsi è dovuta principalmente al minor numero dei tamponi analizzati, tanto che la percentuale di positività degli stessi ha raggiunto un livello senza precedenti 33,4%. Tre invece i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore, tutti nella provincia di Pesaro e tutti con patologie pregresse. A preoccupare è il fatto che tra le vittime ci siano due under 50. Si tratta di una donna di 49 anni di Fano e un 41enne di Tavullia. A loro si aggiunge un 84enne di Cagli. Sono 3.257 in tutto i decessi registrati nelle Marche dall'inizio della pandemia. Tornando ai nuovi positivi, i 699 casi sono emersi a seguito dei 3.459 tamponi analizzati, 2.091 nel percorso screening e 1.368 nel percorso guariti. Oltre la metà delle nuove positività sono relative alla provincia di Ancona con 399 casi. Seguono la provincia di Pesaro con 185, quella di Macerata con 40, quella di Ascoli con 38 e la provincia di Fermo con 10. 20 sono i casi riferiti a fuori regione. Ancora un record per il tasso di incidenza accumulativo ogni 100.000 abitanti, salito a quota 621,08. Restano stabili le percentuali dei vaccinati rispetto all'incidenza del virus. Il 59% dei positivi è vaccinato, percentuale che scende al 42% per i ricoveri in area medica e al 24% per le terapie intensive. Si amplia la forbice tra la possibilità di un vaccinato e un non vaccinato di essere ricoverati. Per ogni vaccinato in terapia intensiva i non vaccinati hanno 8,5 volte in più la possibilità di essere ricoverati, dato che è di 3,8 volte per i ricoveri in area medica e di 1,9 volte per la positività. Infine aumentano di 6 unità rispetto a ieri i ricoveri. In particolare le terapie intensive salgono a 50, più 2, pari al 19,8%. I ricoveri in area medica salgono di 4 unità, pari al 23,16%. In tutto sono 223 le persone attualmente ricoverate nelle Marche. I guariti nelle ultime 24 ore sono 6. Task force di inizio anno da parte della Regione Marche per contrastare l'aumento di contagi da Covid verranno promossi degli open day nei weekend. per chi deve ricevere la seconda o la terza dose senza prenotazione. Il 6 gennaio invece tamponi gratuiti per gli studenti che hanno avuto contatti con soggetti positivi. Il tutto per garantire un ritorno in classe in sicurezza dopo le festività natalizie. La Regione Marche forza i tempi per contrastare l'aumento dei contagi da coronavirus avvenuto nell'ultimo periodo. Per chi vorrà sottoporsi alla seconda o alla terza dose di vaccino senza prenotare infatti sarà possibile farlo in tutti gli hub nei fine settimana. Ad annunciarlo è il governatore Francesco Acquaroli che fa il punto sulla task force promossa dalla stessa Regione Marche. Chiaramente stiamo riallestendo i centri vaccinali che possano essere adeguati per raccogliere l'adesione di centinaia, di migliaia di cittadini che da qui a qualche settimana dovranno recarsi per i richiami. Stiamo riallestendo tutta la programmazione, la prenotazione, tutto il sistema che era stato impeccabile nella prima fase lo stiamo riallestendo per cercare di essere all'altezza in questa fase. Quindi nelle prossime giorni, nelle prossime ore sarà possibile continuare a prenotare la propria vaccinazione, il proprio turno. Sarà possibile farlo nei sistemi tradizionali che già conosciamo e tutti i giorni della settimana i cittadini prenotati potranno recarsi ai nostri centri vaccinali per avere l'inoculazione del vaccino. Come potranno recarsi nei nostri centri vaccinali tutti coloro che vorranno sottoporsi anche senza prenotazione alla prima dose? Per tutti coloro che invece dovranno fare il richiamo alla seconda e alla terza dose dovranno recarsi senza prenotazione se vorranno farlo senza prenotazione nei centri vaccinali nel fine settimana. Sul fronte scuole invece, giovedì 6 gennaio, in tutta la regione ci sarà la possibilità di sottoporsi gratuitamente al tampone per tutti gli studenti delle scuole elementari e delle medie che hanno avuto contatti stretti con positivi oppure che manifestano sintomi. Il servizio sanitario regionale e le aziende sanitarie stanno predisponendo per la popolazione scolastica delle scuole elementari e delle scuole medie nel giorno 6 gennaio la possibilità di sottoporsi al tampone gratuito per tutti gli alunni e i ragazzi che hanno avuto contatti ristretti con positivi o che manifestano sintomi. Questa iniziativa è volta a garantire il più possibile rientro nelle aule scolastiche in sicurezza come saranno adeguati nei sistemi informativi tradizionali e istituzionali anche tutti i dati e tutti i comportamenti a cui dovremmo sottoporci nel caso di contatto con soggetti positivi la cosiddetta nuova quarantena. Nelle prossime ore tutto potrete raccoglierlo e visionarlo nei canali tradizionali e istituzionali. Nella spaccatura che si è aperta tra i medici di Marche Nord sulla situazione di crisi che riguarda l'ospedale di Pesaro il sindaco Matteo Ricci in questa intervista prende le parti del primario del pronto soccorso Umberto Gnudi da Ricci arriva anche un invito per questo 2022 a spingere ancora di più sulle vaccinazioni anti-covid. Thomas Delbianco. Pesaro sta con Gnudi. Il sindaco Matteo Ricci con queste parole prende le parti del primario del pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore Umberto Gnudi nella spaccatura su carenza di personale e qualità dei servizi sanitari che si è aperta tra i medici di Marche Nord. Il grido di dolore di Gnudi non va sottovalutato? No, va ascoltato e va interpretato perché è il grido di una figura e di tante figure sanitarie frustrate e sotto stress da tantissimo tempo e la risposta non può essere quella di far dire a tutti gli primari che le cose vanno bene perché la risposta deve essere quella di dargli velocemente il personale e deve essere quella di far funzionare insieme il pronto soccorso con il resto dell'ospedale. Lo dico perché sicuramente può aver avuto qualche parola esagerata ma va interpretato anche lo stress continuo e soprattutto la sostanza la sostanza è che non si può andare avanti con un ospedale che ha un pronto soccorso così intasato con personale sanitario che da troppo tempo è sotto stress che ha bisogno di un rafforzamento di un'organizzazione differente anche rispetto al resto dell'ospedale. quindi la città è dalla parte di nudi questo sono assolutamente convinto e non a caso dal primo minuto ho cercato di interpretare nel modo migliore le parole che lui stesso ha più volte espresso. Da Ricci l'invito a spingere ancora di più sulle vaccinazioni. La battaglia continua perché ovviamente la variante del covid si costringe a rafforzare ulteriormente le prescrizioni e l'invito è quello di vaccinarsi basta ambiguità sul vaccino non c'è altra difesa in questo momento che il vaccino anticipare le terze dosi vaccinare i bambini mettere in sicurezza la scuola credo che questa debba essere la priorità per tutti coloro che hanno una responsabilità politica perché se non sconfiggiamo il virus non riusciremo a vivere come vorremmo non riusciamo a sostenere come vogliamo una crescita economica che per fortuna nella nostra città è molto forte perché non si trovano operai e dipendenti da nessuna parte. La sua vita era appesa a un filo sottile troppo grave infatti le ferite riportate dopo il tragico incidente di quattro giorni fa Filippo Montero non ce l'ha fatta è deceduto all'ospedale regionale di Torrette dove si trovava ricoverato lo studente di 17 anni originario di Monzano da 48 ore era in come reversibile martedì scorso era rimasto gravemente ferito mentre era in sella al suo scooter lo schianto terribile tra via Puglia e via Romagna un impatto violentissimo contro un camion meno gravi le condizioni del suo amico che si trovava insieme a lui in sella al motociclo sul posto erano intervenuti gli operatori della croce gialla di Morro d'Alba e quelli della croce verde di Iesi che lo avevano trasportato al nosocomio del capoluogo d'Orico affermo invece giallo sulla morte del noto commercialista Lando Fossi aveva 75 anni ieri sera è stato trovato morto in casa il corpo era circondato da diverse macchie di sangue è stato trovato morto nella sua abitazione in via Brunforte nel bel mezzo del centro storico di Fermo ieri sera il noto commercialista Lando Fossi l'uomo 75 anni molto conosciuto in città si trovava in casa quando la sorella si è recata a fargli visita all'ora di cena dopo aver suonato più volte al campanello senza ricevere risposta la donna preoccupata ha subito lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti in poco tempo i vigili del fuoco di Fermo che una volta aperta la porta dell'appartamento che si trova accanto allo studio professionale dell'uomo si sono trovati di fronte al corpo senza vita del commercialista circondato da diverse macchie di sangue sul luogo della tragedia si sono portati anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 75enne da una prima ispezione cadaverica sembrerebbe essersi trattato di un incidente domestico anche se non si escludono altre ipotesi di natura violenta come ad esempio un'aggressione sulla vicenda indaga la polizia che ha raccolto tutti gli elementi utili per accertare la dinamica dei fatti e chiarire le circostanze del decesso sarà necessaria l'autopsia per stabilire con certezza cosa è accaduto il commercialista era stato visto l'ultima volta la sera del 31 dicembre dai suoi amici con cui aveva trascorso la serata anche se era tornato a casa prima della mezzanotte a San Benedetto verrà riqualificato il vecchio stadio Ballarin arriverà un finanziamento per 2,4 milioni di euro attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza il cosiddetto PNRR a fare il punto della situazione il microfono di Pierpaolo Flammini l'assessore per lei alle mie spalle quello che resta del stadio Ballarin l'ex fossa dei leoni teatro di tante vicende sportive eroiche della Samb sarà oggetto di una riqualificazione grazie ai fondi del PNRR con decreto del 30 dicembre congiunto tra il ministero dell'interno e il MEF sono stati assegnati 2 milioni 440 mila euro per la rigenerazione urbana dell'area Ballarin e quindi adesso abbiamo scadenze temporizzate in maniera molto chiara per utilizzare questi fondi quali sono queste scadenze i tempi della programmazione e della conclusione degli eventuali lavori? le scadenze sono entro settembre 2023 l'assegnazione dei lavori dopo un anno il 30% dell'esecuzione entro giugno 2026 come tutti i bandi PNRR la conclusione la rendicontazione dei lavori degli interventi sembra ci sia comunque la possibilità per ottenere altri fondi 2 milioni e 6 si parla di una cifra del genere? sì nel bando che assegnava a cui partecipò la vecchia amministrazione per la richiesta di questi fondi in effetti si poteva accedere fino a un massimo di 5 milioni di euro e tanto che negli incontri che ho avuto a Roma al MEF appunto ci dicevano come mai non avessimo utilizzato tutti i fondi disponibili non ho potuto rispondere a questa domanda rispondo che però grazie anche ai contatti che abbiamo avuto questi fondi sono stati rimessi a disposizione nella nuova legge di bilancio approvata qualche giorno fa 2022 per cui possiamo chiedere la differenza su altri progetti di rigenerazione urbana per la nostra città sull'area balla in campagna elettorale il sindaco Spazzafumo si era espresso favorevolmente sul progetto una porta sul mare cosa ribadita tra l'altro al momento dell'insiedamento questo progetto questa progettualità può essere connessa a questi fondi in arrivo? Assolutamente sì è stata una nostra premura quando negli incontri avuti al Viminale e al MEF appunto sapere conoscere se c'erano vincoli riguardo alla progettazione presentata avvalere su questo fondo e ci è stato detto assolutamente di no salvo il fatto di intervenire sull'area identificata ma questo è chiaro che è il Ballarin quindi noi procederemo adesso insieme al sindaco alla giunta a tutta la maggioranza a definire quale sarà il progetto esecutivo definitivo dell'area e poi a metterlo in atto Restano valide le idee del concorso di idee della partecipazione per definire la riqualificazione del Ballarin? Sicuramente sì compatibilmente con i tempi che sono stati definiti dal MEF per cui occorre lavorare e arrivare in tempi rapidi alla definizione di un progetto all'assegnazione al bando e all'assegnazione dei lavori e a realizzare quest'opera che San Benedetto attende da tantissimi anni approvate approvate le proposte della regione per la rifunzionalizzazione dei beni pubblici e per lo sviluppo turistico oltre 100 milioni saranno destinate al cratere marchigiano finanziati dal fondo complementare PNRR come ci spiega Luigi Miozzi un'altra decisa accelerazione alla ricostruzione post-sisma viene impressa dagli ulteriori 100 milioni di euro destinati al cratere marchigiano del terremoto una somma importante che arriva dal fondo complementare PNRR Sisma 2009-2016 e che viene alla regione impegnata in prima linea con le proposte progettuali approvate nella recente cabina di regia la regione Marche ha presentato una serie di progetti suddivise in due macro-aree per poter utilizzare questi fondi sono stati sviluppati in stretto contatto con le esigenze del territorio e approvati dalla cabina di coordinamento integrata due le direttrici che hanno determinato il finanziamento dei progetti da un lato la rifunzionalizzazione dei beni pubblici e dall'altro lo sviluppo turistico e ricreativo i beneficiari sono stati individuati ricorrendo alla progettualità che i comuni del cratere avevano presentato in occasione del varo del contratto istituzionale di sviluppo che grazie all'intervento regionale ottiene di fatto il raddoppio della dotazione finanziaria originaria alla rifunzionalizzazione dei beni pubblici sono stati destinati 53,6 milioni di euro tra gli interventi sostenuti anche i 110 milioni di euro a beneficio degli 85 comuni del cratere che andranno ad impattare su rigenerazione urbana e strade e l'assessore guido castelli a evidenziare l'importanza dei provvedimenti adottati è importante decisivo il ruolo della regione che ha per il momento stanziato qualcosa come 200 milioni proprio per le aree del cratere marchigiano a me pare utile sottolineare come anche nella zona del piceno siano stati molto ingenti gli stanziamenti i finanziamenti che hanno riguardato tutti i borghi e i comuni che sono stati in qualche misura penalizzati lesionati devastati in qualche cosa in qualche misura dal sisma quindi l'intervento sul ponte di Trisungo per la grotta della Sibilla a Montemonaco importanti rinfunzionalizzazioni in quel di Velarotta ma anche a Force anche dobbiamo ricordarlo in quelle zone come ad esempio Montegallo e Velarotta si sono create le condizioni per un rilancio che sarà possibile solo se nel momento in cui si costruiscono le case si realizzano le riparazioni nel frattempo sicura che l'economia non muoia e soprattutto che non vi sia un aggravamento di quella tendenza allo spopolamento demografico che potrebbe davvero uccidere intossicare le aree interne sempre più pressione dalle marche dalla Toscana verso il governo per prevedere la Fano Grosseto a quattro corsie i sindaci delle città agli estremi della strada dei due mari hanno stretto un accordo proprio per raggiungere questo obiettivo Thomas Delbianco il sindaco di Fano e il sindaco di Grosseto hanno stretto un accordo per strappare la Fano Grosseto a quattro corsie sarà un obiettivo difficile da conquistare beh le cose semplici sono pochissime però è un incontro importante perché è un messaggio importante è un messaggio che pensiamo di condividere con tanti sindaci coinvolti nel tracciato e quello che mi fa piacere è che questo obiettivo è condiviso anche dalle tre regioni ovviamente sia io che il mio collega di Grosseto abbiamo parlato con le rispettive regioni e siamo in sintonia su questa progettualità per cui una volta tanto c'è una politica trasversale che la pensa alla stessa maniera e se saremo uniti riusciremo a ottenere questo risultato nel momento che si fa un'opera non bisogna farla a metà va fatta ben bene siccome questa cosa è partita dagli anni 60 penso sia più che superato il limite per non realizzarla e 2022 sarà un anno di contanti cantieri che vedranno finalmente la loro realizzazione ma soprattutto significa dare risposte a quelli che sono i bisogni ma anche al miglioramento della nostra città sia la sua bellezza sia i suoi servizi viaggeremo dalle manutenzioni alle nuove opere alle riqualificazioni insomma sarà un 2022 importante per le realizzazioni ma anche per ulteriori nuove progettazioni che poi vedranno a loro volta la realizzazione e i cantieri nel 2023 quindi sarà un giro di boa questo secondo tempo di questa partita di questo mandato interessante è tutto giocato all'attacco la fine della pandemia è mesi decisamente più sereni per tutti a quanto auspicano gli ascolani per il 2022 appena cominciato a fare un giro sotto le 100 torri è stato il nostro Luigi Miozzi per capire cosa chiedono i cittadini al nuovo anno un nuovo anno è appena cominciato e con esso si rinnovano anche le speranze e i buoni propositi di tutti e dopo due anni di emergenza sanitaria trascorsi tra lockdown distanziamento quarantene e mascherine quasi tutti auspicano che il 2022 sia finalmente quello in cui si riesca a gettarsi alle spalle la pandemia e le difficoltà ad essa conseguite queste le impressioni e i commenti che abbiamo raccolto tra la gente a passeggio tra le vie del centro di Ascoli il nuovo anno è appena iniziato quali sono i propositi per questo nuovo anno e cosa si attende da questo nuovo anno? ovviamente ci attendiamo ci attendiamo sempre il meglio soprattutto che finisca questa pandemia e speriamo di vederla in questo anno e di vederla chiusa ecco per cui insomma io ho delle attività per cui cercheremo di cercheremo speriamo di poter vivere un anno liberi e tranquilli ma guarda speriamo che innanzitutto finisca usciamo un po' da questa pandemia e speriamo che porti soprattutto lavoro e tante altre cose positive ma come dicevo prima che riusciamo a uscire da questa pandemia che ci sta un po' fermando la nostra libertà che sia un anno di salute per tutti e sereno un po' di serenità ecco e tornare alle cose normali la quotidianità un anno speriamo che sia il migliore dell'anno scorso sperando che questa pandemia finisca e che i Novak si mettesse in mente e li fassero vaccinarli io ho fatto tre dose e tutto a posto serenità e tranquillità soprattutto e tornare a vivere come un paio di anni fa in maniera serena spensierata e tranquilli tanto lavoro per tutti tanto bene per tutti questa è la cosa più importante stare sereni passiamo allo sport cinque calciatori dell'Ancona Matelica sono risultati positivi al covid lo comunica la stessa società d'Orica la ripresa delle attività era stata fissata per la giornata di oggi in previsione della gara con l'Olbia originariamente in calendario per sabato 8 gennaio poi posticipata dalla Lega al 2 febbraio prima di rientrare in gruppo i giocatori si erano sottoposti a tamponi di controllo presso i loro luoghi di residenza e a questo ciclo sono emersi cinque casi positivi questa mattina la società come previsto ha fatto svolgere tamponi e test serologici a coloro che erano risultati negativi dai test effettuati ovviamente nelle 48 ore precedenti alla giornata odierna tutti sono risultati negativi i ragazzi risultati positivi invece che non hanno mai avuto contatti con gli altri rimarranno presso il proprio domicilio e seguiranno il protocollo previsto e le disposizioni vigenti in casa Samb domani si tornerà al lavoro per preparare il primo impegno del nuovo anno quello contro il Pineto di domenica prossima intanto per quanto riguarda il mercato i rosso-blu puntano forte sul difensore Zaccone del Siena domani la Samb riprenderà a correre in vista del girone di ritorno e dell'ultima gara d'andata contro il Pineto ex squadra del recente acquisto rosso-blu Cardella per i riveraschi quindi inizia un nuovo anno e una seconda parte di stagione che si spera assolutamente diversa dalla prima uno squarcio sul futuro è stato aperto nelle ultime due gare di dicembre quando il duo Visi-Alfonsi ha ottenuto sei punti contro Tolentino e Aurora Alto Casertano si è chiuso così un 2021 catastrofico sotto ogni punto di vista non solo societario nel quale si è battuto il record di gare perse consecutivamente all'esordio che resisteva dal 1942 la Samb ha chiuso il 2021 di Serie D con 5 vittorie 3 pareggi 8 sconfitte di cui la metà maturate contro le attuali prime della classe le stesse che dovranno essere affrontate subito dopo il termine del girone d'andata ossia a partire dal 16 gennaio covid permettendo dopo il match con il Pineto infatti gli uomini divisi Alfonsi dovranno vedersela con Trastevere Re Canatese e Fiuggi dopo gli scontri con le prime tre in classifica a febbraio ecco il derby col Porto d'Ascoli oggi quarto Alfonsi e Visi dovranno quindi lavorare particolarmente sugli aspetti difensivi perché la Samb ha tuttora una delle peggiori difese del campionato i numeri sono migliorati ultimamente parallelamente alla classifica ma i rosso-blu restano la quinta retroguardia più battuta del girone F di Serie D lo ha dimostrato anche l'ultima vittoria dell'anno quella con l'Aurora Alto Casertano che aveva segnato solo tre golli in 15 match per poi farne due alla Samb almeno però la stessa gara ha dato un buon segnale dal punto di vista realizzativo perché i Riveraschi hanno siglato tre reti ai Campani cosa mai accaduta in stagione non solo nelle 15 gare precedenti l'ultima vittoria i rosso-blu avevano segnato due golli in un match soltanto in tre occasioni ossia nei primi due match contro Re Canatese e Trastevere e nella vittoria contro il Castelnuovo l'arrivo di Cardella darà un'ulteriore mano in avanti ma ora Visi e Alfonsi dovranno trovare lo spazio per far giocare sia lui che Amet Fall autore di due gol nelle ultime due uscite nel frattempo a gennaio si apre appunto il mercato per le squadre professionistiche e la Samb potrà mettere sotto contratto dei giovani provenienti dalle categorie superiori servono due terzini o comunque un vice alboni la società lo ha individuato in Lorenzo Zaccone classe 2002 del Siena Calcio a 5 in chiusura di 2021 si è tenuta al palazzetto di Monsampolo del Tronto la seconda edizione di Futsal Christmas Friends un quadrangolare di calcio a 5 giovanile a sostegno di due progetti per aiutare i bambini del Senegal per Paolo sport e solidarietà il connubio si è rinsaldato al palazzetto di Monsampolo del Tronto dove proprio in chiusura di 2021 si è tenuta la seconda edizione di Futsal Christmas Friends un quadrangolare di calcio a 5 giovanile per ragazzi nati dal 2000 in poi e organizzato dai padroni di casa della polisportiva CSI Stella hanno accolto l'invito Eagles Pagliare del Tronto e Damiani Gatti Ascoli e Cus Macerata in virtù dell'innalzamento dei contagi degli ultimi giorni la manifestazione si è svolta a porte chiuse una giornata di festa nonostante la pandemia che ci ha fatto tentennare su questo evento ma abbiamo ritenuto fondamentale dare uno spazio ai giovani in un momento difficile soprattutto una giornata di sport vicino a un'azione di solidarietà verso un'associazione a noi vicina Un orgoglio per noi e per la polisportiva CSI Stella faccio i complimenti alla polisportiva che ha unito questa giornata in questo momento complicato per il covid un'iniziativa di beneficenza con un'associazione per persone più svantaggiate quindi credo che sia veramente un'ottima iniziativa Un'iniziativa presentata dall'artista locale Maria Cristina Pompei che si è sviluppata intorno al torneo di calcio 5 e poi a una tombolata e a una lotteria di beneficenza a sostegno dei progetti della ONLUS sogni e speranze operiamo in Senegal con due progetti un progetto dedicato al rurale a una fattoria per adulti e un progetto nato nel 2018 per i bambini abbiamo sovvenzioniamo una piccola scuola rurale che ospita i bambini di sei villaggi per il momento abbiamo istituito una mensa ma possiamo dare il cibo soltanto a 60 bambini il nostro scopo qual è? quello di poter dare cibo a tutti e duecenti i bambini di questa scuola nella mensa e dare e poter fare il cibo per tutti e quattro o cinque giorni in questo momento riusciamo soltanto a coprire due giorni alla settimana era l'ultima notizia non ci sono ulteriori aggiornamenti grazie per averci seguito buon proseguimento con le trasmissioni di Vera TV grazie per averci seguito